Ecco inizia la partitella dai fiscoli di mister Antonella, i primi calci, eeeh bravo, guarda, ha segnato il piccolino, bravo, una zero per il Granata, un accetto per il Granata, ecco, riparte, ok, andate, 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 vai, 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 bravo, Ancolo, Ancolo, rimessa, Ancolo, ecco Ancolo, per i gialli, ecco i piccolini che si divertono in questa meravigliosa struttura coperta, proprio per i periodi invernali e quando fa freddo così i ragazzini non si ammalano, ecco, in questo impianto polivalente, detto pallone, ecco, ecco la rimessa dei gialli, ecco Dripi, ecco, bravo, ecco, ecco, contro piede, niente, ha ripreso il rosso, ecco, mischia, mischia, una piccola mischia, la portiera è rimessa, ecco, rimessa per il portiere, ecco i piccolini, ecco il portiere si accinge a passare il pallone al compagno, aspetta l'ordine di mister Antonello, ecco, allargato al compagno, sempre con casacca rossa, bravo, ha ripreso i gialli, ecco, scatta il rosso, scatta il rosso, l'ha ripreso il giallo, ecco, ha rimborso, ecco, bravo, ecco, i ragazzini si divertono, ecco, bravo, bravo, vai, 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 bravo, bravo, ecco la ripreso, Vete, 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 ancora per il Granata, 2 a 0, 2 a 0, per i ragazzi con la casacca, Granata, bravo, 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 ecco, ecco, ecco i gialli, eh, un po' intavolati, stanno, i ragazzini con la casacca gialla, Palla a centro, mister Antonello, palla a centro, bravo, ripartono i gialli, ripartono i gialli, passi al compagno, bravo. Calcio d'angolo, calcio d'angolo, calcio d'angolo per i gialli, calcio d'angolo per i bimbi con la casacca gialla. Grazie a tutti. Il vinciolino, punizione, o calcio di rigore o punizione dal limite. Fallo, oddio povero bimbo, ci è fatto male, tutto a posto. Ecco, mister ha interrotto il gioco, un fallo, un fallo proprio da Martione. Ecco, ripartono. Bravo Fido, bravo, bravo, compagno Lucio. Grazie a tutti.